Puntare sui giovani italiani secondo me ha una doppia valenza, uno perché creare comunque all'interno di società, di squadre che fanno sul senso di appartenenza, sul gruppo, sull'aiuto reciproco, una qualità importante, è chiaro che è meglio avere ragazzi, anche se non sono nati a Filadelfia come una volta, però che trovano nel senso di appartenenza un valore importante e secondo me, e credo di non poter essere smentito, per i ragazzi italiani è più facile che questo avvenga. E poi giovani, perché comunque per troppi anni siamo andati avanti su un calcio di cui ci fidavamo più del giocatore esperto, perché era un calcio comunque costruito sugli episodi, è chiaro che per gli episodi dà maggiori garanzie il giocatore esperto, il giocatore anziano, il giocatore che comunque ne ha vissute tante e li sa affrontare in maniera migliore. I giovani sbagliano di più, gli va dato più tempo, però danno un altro tipo di approccio, molto più entusiasmo, molta più intraprendenza, molto più coraggio, se vogliamo. Secondo me, anche seguendo quello che è stato fatto in altri campionati, Spagna e Germania prima che da noi, affidarsi ai giovani in Francia, affidarsi ai giovani, poi alla fine fa crescere tutto il movimento, perciò io sono molto contento di queste scelte da parte del Torino, ma non solo del Torino, perché ce ne sono diverse di squadre in Italia adesso che stanno facendo questa politica.